Buon travati, io sono Roberto Sposti, sono Presidente della Selezione Bartola, oltre che docenti di questo Ateneo. Ti direi di cominciare subito questa giornata, questo è il seminario numero 5 di questo ciclo di seminari che arriverà a 10 e che fa parte di questo programma di iniziative e che rientra sotto il nome di Agrimarche Europa e il tema di questo seminario è il tema dell'innovazione. Più tardi quando introdurrò le relazioni, magari avrò modo di dirmi un paio di minuti qualcosa in più su questo tema, adesso invece vorrei lasciare la parola al professor Iacobucci che è diciamo un po' il capo di questa struttura, il delegato, che è una struttura nuova e innovativa allo stesso tempo, nuova perché esiste da relativamente poco tempo, innovativa perché è espressione del tentativo di, appunto come dice noi stessi, di contaminare non solo le discipline ma anche soprattutto il mondo dell'academia, della ricerca academica con il mondo produttivo dell'impresa. Quindi lascio la parola Donato per introduci in questo ambiente e poi la dottoressa Martellini che introdurrà poi le relazioni soprattutto con riferimento agli obiettivi, le aspettative che la regione Marche ha da questo tipo di iniziative con riferimento a quello che poi concretamente andrà a fare in applicazione del nuovo PSR.